Un'area ai confini tra i territori di Ponte di Piave e San Biagio di Callalta, ma di competenza di quest'ultimo comune, da tempo a conoscenza di quello che succede sulle rive del fiume Sacro alla Patria. Nel tempo abbiamo visto che c'è una frequentazione particolare, non consona a quello che è il luogo. Questi incivili sappiamo che ci sono, lasciano rifiuti dopo aver trascorso la propria giornata presso il Piave. Le nostre telecamere avevano documentato la presenza di cumuli di sacchi di mondizie tra la vegetazione e addirittura di un camper dato alle fiamme, parcheggiato nell'area antistante e l'accesso al fiume. Abbiamo già provveduto la settimana scorsa a far portare via, dico una montagna di rifiuti, perché è una montagna, attraverso quelli che sono gli strumenti dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda il camper ci vuole un po' di più, perché quello è, diciamo, lo metto tra virgolette un corpo de reato, perché è stato un incendio doloso e quindi c'è una procedura in atto e però conto a breve di poter far rimuovere anche quel relitto. Fino a qualche tempo fa l'area era di proprietà di un altro ente, poi il comune di San Biagio ha deciso di acquisirla per poter intervenire. Al momento si tratta solo di una bozza, ma sulla carta già protocollato c'è un progetto per un investimento di circa 200 mila euro che punta a riqualificare l'intera area. L'intervento che stiamo pensando è quello di una riqualificazione di quell'ambito che è l'accesso al Piave, in modo tale che ci siano i posti auto, che ci sia la possibilità anche di usufruire in modo diverso quello che è il luogo, ma sicuramente anche illuminazione e videosorveglianza. Questo darà modo, farà sì, auspichiamo che faccia sì, che non vengano più abbandonati i rifiuti, perché ci sarà un occhio elettronico che controlla il sito.